Allora, madrina, madrina contenta, quasi contenta, ce l'abbiamo fatta a metà, c'eri tu e c'eri Nicola, non potevamo non vincere, abbiamo vinto. Sono contenta del primo gol di Leonardo, il secondo a tempo scaduto di Lanciano, insomma contro il Città avrei preferito il Lanciano-Vincente, così questa sera sarebbe stata una vera festa ma andremo carichi a Novara. Tu cosa prevedi? No, non si dice, andremo carichi a Novara, perché noi non molliamo l'altro centimetro. Sarebbe arrivare a soffrire così tanto, poi ne parliamo alla fine del campionato, però insomma c'è qualcosa che non va giù. Claudio, di problemi ne abbiamo avuti tanti, questa sera si gioisce, e gioia sia. Ah ok, è gioia sia, è gioia sia. Non so tanto, è gioia sia. Siccome che il bacio alla madrina vale 100 punti, vado, vado col bacio. E il bacio giornalista quanto vale? 200, bacio voluto. Non è punti, devono valere gol. Il gol, è la vittoria col Novara, io porto buono, porto buono. Va vero. Ciao a tutti. Ecco, volevo chiederti una cosa, così i spettatori sanno, il tuo film come è andato poi? Il film ha vinto ieri la nomination Migliori Costumi, del nastro d'argento, quindi festa ieri, festa oggi, devo dire che è stato, è un grande momento. Ok.